Avvio, avvio, avvio. Eccoci qua, siamo con Pippoli e Pink, Pipi, Pipi, Piccoli e Pink. Ciao ragazzi, com'è? Ciao Michele, ciao Massimo. Ciao Pink, ciao Massimo. Pippoli, abbiamo Pippoli e Pink, vedremo nei prossimi giorni. Direi che possiamo andarlo giovedì se vi va bene, così diciamo già se va bene a tutti, perché prima non riesco, quindi va bene giovedì? Giovedì manderemo la videoregistrazione, va bene Pippoli? È un giorno che ti va bene, perché così vedrete. Ma gli stessi hanno vestiti uguali, eh? Michele ha la camicia bianca e la cravatta nera, io la giacca bianca e il body nero, eh? Hai visto? Bianca e nero, bianca e nero, Pippoli, oggi sposi, Pink e Pippoli, oggi sposi, oggi sposi. Ma tu te la sposeresti una donna, diciamo, agee, come la Pink, Pippoli? Solo la Pink, solo la Pink. Te la sposeresti, anche se, insomma, vabbè, bene, bravo Pippoli. Allora, presto ci vedremo, sarà una cosa divertente, dove vedremo come Pippoli se durerà la Pink o come la Pink se durerà Pippoli, insomma. Se ci sarà quest'amore, perché vogliamo vedere, sbocciare quest'amore, insomma, tra Pippi. Pippoli, ci sei ancora vivo? Ci sei? Sì, sì, ci sono, sì, sì. Bene, bene. Allora, giovedì, non mancata questa puntata. Allora, giovedì, non mancata.